benvenuti e bentornati a gordon emozioni da vendere il podcast in cui ogni vetrina racconta una storia e ogni negozio diventa un palcoscenico di emozioni io sono marika gigante visual merchandising evangelist e nerd di retail e insieme esploreremo il mondo del visual merchandising attraverso le lenti della psicologia e del comportamento umano preparatevi a scoprire come trasformare uno spazio commerciale in un'esperienza che colpisce il cuore e la mente dei consumatori credo che una delle parole più utilizzate nel settore retail anche dai non addette ai lavori è experience insieme anche alla variante customer journey correggetemi se sbaglio ma la tematica è davvero sulla bocca di tutti di molti io credo anche a ragion veduta sia chiaro credo sia molto importante quello che temo e che voglio snocciolare in questo episodio è che c'è una distorsione di cosa significhi davvero retail experience e customer journey proprio perché se ne parla molto e ahimè anche fuori contesto mettendo enfasi su situazioni atipiche uniche oserei dire e aspettandosi che siano la normalità negli ultimi vent'anni questo tema è rimasto caldo e importante perché di fatto è davvero davvero importante non ci sono altri modi per definirlo inutile dire che dopo le limitazioni della pandemia la nostra vendetta tra virgolette è quella di vivere esperienze entusiasmanti che ci fanno stare bene no anche i concerti le serate tutto quello di cui siamo stati privati in quel periodo e molti ovviamente hanno colto il vantaggio di questa attitudine anche ovviamente il settore del retail quindi anche i commercianti anche i negozi ma è un argomento che va trattato con la giusta dose di conoscenza e comprensione insomma per farla proprio semplice non basta organizzare un aperitivo tre volte l'anno in un negozio per definire un experience o una customer journey ecco questo tema a me poi prende molto e ne sono davvero affascinata perché riguarda strettamente al cosa vogliamo che il cliente faccia dentro il nostro negozio pensandoci ogni volta che entriamo in un negozio che sia per acquistare un prodotto o anche semplicemente per curiosare ci troviamo poi immersi in una specie di viaggio o se preferite in un percorso in un modo meno romantico di descrivere questa cosa creato dal negoziante o dal marchio e questo viaggio che noi chiamiamo customer journey appunto dove customer journey significa proprio il viaggio del cliente all'interno del negozio è un'esperienza che il negozio ci offre che è fatta di spazi di colori di suoni di interazioni di vario genere e qua voglio mettere l'attenzione su un fattore che possono essere interazioni spazi colori che possono non piacerci ok possono piacerci ma anche no ma devono essere coerenti al brand devono corrispondere al brand o al negozio e soprattutto ciò che vuole comunicare a ciò che il brand o il negozio vuole far fare o far sentire provare ai suoi clienti capire come costruire una rete l'experience memorabile non è solo importante possiamo definirlo fondamentale per connettersi con i clienti si stabilisce in questo modo un rapporto che va molto oltre la mera e pura transazione di acquisto attraverso l'esperienza si definisce un rapporto di fiducia e lealtà oggi e questo ci aiuta a capire come i comportamenti delle persone e le modalità di acquisto siano più importanti di quanto immaginiamo dato che il contesto evolve continuamente possiamo sempre vedere sempre più chiaramente facilmente che ci sono delle dinamiche di comportamento umano che si adattano a ciò che succede intorno a noi lo dicevo prima no pensiamo agli ultimi anni ogni evento sociale che sia globale locale ha influenzato profondamente anche il retail e abbiamo anche imparato un po' a riconoscerlo l'esempio più lampante e vivo nei nostri ricordi è sicuramente il periodo della pandemia del lockdown delle privazioni quella situazione ha cambiato profondamente il modo in cui viviamo gli spazi fisici ma anche quelli online basti pensare che nel periodo più intenso il lockdown l'unico modo che avevamo per vedere fuori guardare fuori dalla nostra piccola realtà che era stare chiusi in casa era quello di usare i social essere iper connessi seguire molte dirette e farci compagnia virtualmente questa attitudine ci è rimasta dentro come una normalità come un'abitudine da cui ora molti alcuni me inclusa fanno fatica a staccarsi se guardiamo anche ad altri eventi di diversa portata ci rendiamo conto che anche situazioni locali hanno portato anzi portano cambiamenti nel retail che è un settore specchio della società ad esempio molti di voi sanno che io ho una fortissima passione per l'inghilterra londra nello specifico e quindi vi porto un esempio che per me è stato molto toccante ovvero la morte della regina elisabetta nel settembre 2022 al di fuori del dell'emozione personale ha avuto un impatto immediato persino sulle vetrine di brand molto grandi molto iconici che hanno immediatamente cambiato le loro vetrine per onorare la sovrana e questo nonostante le pianificazioni aziendali quindi quello che mi fare oggi è esplorare come questi cambiamenti influenzano il modo in cui costruiamo le esperienze per i nostri clienti perché nulla è mai un caso quando penso ai temi di retail experience e customer journey mi rendo conto che tutto ciò che costruiamo come esperienze di acquisto è ancorato nella realtà che ci circonda lo dicevano i clienti oggi si aspettano un viaggio che rispecchi la loro vita quotidiana spesso deve essere integrato con la tecnologia e l'online perché è una parte fondamentale della nostra quotidianità ad esempio molti clienti questo è importante per tutti noi saperlo molti clienti scoprono prodotti o nuovi negozi online quindi il percorso il viaggio del nostro cliente ipotetico incomincia molto prima dell'arrivare in negozio molto prima del passare davanti alla nostra vetrina molto prima di verificare di persona in negozio quel tipo di prodotto questo cosa significa che iniziando molto prima che il cliente entra nello spazio fisico non solo bisogna intercettare e coinvolgere i clienti su un piano un pochino diverso ma questo genere di viaggio questa customer journey continua anche dopo l'acquisto perché online si possono fare recensioni si possono fare condivisioni sui social si può fare il passaparola suggerire un prodotto suggerire un'esperienza è un ciclo continuo il nostro compito è fare in modo che ogni fase di questo viaggio sia positiva e coinvolgente si spera e a me personalmente quello che affascina di questo tema è come tutto si leghi a elementi del comportamento umano la necessità di sentirsi accolti di trovare ciò che si cerca senza troppo sforzo ma anche di vivere un'esperienza che in qualche modo ci fa un po uscire dalla routine il retail è un punto veramente nevralgico dove si incontrano emozioni estetica e strategia ed è questo che lo rende così speciale e ancora molto molto funzionante e performante mi dispiace ribadirlo ma non sono di certo i prodotti da soli a fare la differenza soprattutto in un mondo dove si può comprare tutto ovunque anche seduti sul divano in pigiama con i capelli arruffati l'esperienza domina questo va tenuto bene saldo a mente dunque se il comportamento dei consumatori è profondamente influenzato da eventi tecnologie e abitudini culturali allora fattori a cui siamo abituati come la personalizzazione la comodità praticità di acquisto l'integrazione tra online e offline sono diventati fattori essenziali c'è una profonda connessione con il momento storico questo nuovamente ribadisce il concetto che il retail non è mai scollegato dalla realtà che viviamo ma ne riflette le emozioni i bisogni e le aspettative delle persone quindi i consumatori oggi si aspettano cosa che il retail anticipi i loro desideri e che sia molto aderente alle loro aspettative cosa significa questo nell'atto poi pratico ok mi sento di darti tre suggerimenti che magari puoi applicare quotidianamente o comunque per fare un piccolo check del tuo negozio del tuo spazio questi suggerimenti sono pratici e aiutano a migliorare la retail experience mettiamola così o il customer journey come preferisci nel tuo negozio il primo suggerimento è quello di ottimizzare il percorso fisico quindi di creare un layout un percorso che guidi il cliente in una maniera fluida quindi che non ci siano ostacoli considera che ogni angolo del negozio deve avere una logica prodotti che si completano tra di loro messi vicino le zone calde ovvero quelle di maggior passaggio contengono i prodotti più attraenti o più performanti o quelli che voglio spingere le promozioni il secondo suggerimento è quello di personalizzare l'esperienza sembra una cosa di fantascienza no ma in realtà si tratta di comprendere che i clienti vogliono sentirsi unici quindi se è un negozio piccolo e magari hai una clientela che è fidelizzata che conosci puoi fare dei piccoli gesti come chiamare per nome quel cliente o riconoscere il suo stile sapere che cosa proporre anche per esempio può essere molto utile offrire dei consigli personalizzati basati sulle preferenze o esigenze che il cliente esprime quindi un po di buona volontà nell'essere in interazione in connessione con il cliente il terzo consiglio che ti do è quello di allineare l'online con il fisico no marica non ci capisco niente di tecnologia no no calma andiamo con ordine allora molti clienti come vi ho detto prima iniziano il loro viaggio di scoperta di conoscenza online ok quindi è importante che cosa che se hai un sito se hai una pagina social se hai qualsiasi tipo di punto d'incontro online questo sia coerente con l'esperienza che poi clienti troveranno il negozio e viceversa quindi ad esempio se tu promuovi un prodotto c'è una promozione online specifica che comunichi online sui tuoi social allora il suggerimento è quello di creare all'interno del negozio un punto che sia dedicato a quel prodotto dedicato a quella promozione in questo modo il cliente lo troverà anzi lo ritroverà lo riconoscerà ok facilmente una volta che arriva nel tuo negozio mettere in pratica questi spunti rende il negozio più efficace migliora profondamente il modo in cui i clienti vivono lo spazio e sappiamo che un cliente che si sente accolto guidato coccolato anche sorpreso è un cliente soddisfatto e soprattutto fedele lo dico ancora mamma quante ripetizioni lo so ma è importante le esperienze positive portano i clienti a tornare e a condividere quello che hanno vissuto con amici familiari online con recensioni e questa è un'azione di marketing importantissima che puoi veicolare attraverso l'esperienza che crei al contrario statisticamente parlando bastano solo e sottolineo solo due interazioni negative per perdere un cliente due sono pochissime e questo dimostra quanto sia importante curare ogni dettaglio del viaggio del cliente dal primo click online di scoperta fino al momento dell'acquisto in negozio e soprattutto curare l'interazione con il personale di vendita io non so voi ma personalmente quando mi capita di entrare in un negozio o in un bar e non vengo salutata già lì la mia soglia di disponibilità si abbassa moltissimo e ok il personale potrebbe essere molto indaffarato ma se dopo pochi minuti il personale non mi riconosce non mi dà segni di vita io me ne vado me ne vado quanti di voi fanno come me onestamente dai adesso io lo voglio sapere a fine dell'episodio vi lascio un sondaggio a cui vi invito a rispondere quanti di voi come me se ne vanno quando non vengono salutati o accolti in un negozio in un bar ed è proprio qui che secondo me è interessante capire e verificare come vi ho detto che le esperienze negative hanno anche loro il loro peso un'ultima cosa che voglio dirti sulla retail experience è questa assicurati sempre che l'esperienza sia coerente con il tuo negozio o con il brand con cui lavori è importante che il cliente percepisca questa adesione di identità parolone cosa significa ecco un esempio molto pratico se vendi cartoleria e prodotti per la scuola in generale molto probabilmente il tuo pubblico sarà per lo più composto da studenti genitori e anche bambini a volte quindi l'esperienza deve essere adeguata gentilezza disponibilità chiarezza sia espositiva che esplicativa diversamente se vendi gioielli rari anche qui l'ambiente e il personale deve essere adeguato al prodotto venduto e al prototipo di cliente che frequenta il negozio anche qui la gentilezza la disponibilità la chiarezza sono importanti ma ovviamente il tono di voce il tono di estetica anche del negozio sarà molto diverso le eccezioni ci sono sempre cioè c'è il prototipo di cliente a cui ci riferiamo ma poi può arrivarci anche un cliente diciamo inaspettato e va benissimo ma invertire le due esperienze d'acquisto sarebbe dissonante e controproducente credo che lo capisca tu da solo quindi per concludere la parola chiave è coerenza attraverso tutti i touch point ed eccoci che anche oggi siamo giunti al termine di questo episodio come sempre grazie per aver ascoltato questa puntata di gordon emozioni da vendere spero che questi spunti ti siano utili per capire come migliorare la retail experience e mi raccomando fammi sapere cosa ne pensi se hai messo in pratica qualche consiglio puoi trovarmi su tutti i social principalmente instagram e ovviamente qui sul podcast se mi lascio un commento un feedback mi aiuta tantissimo a migliorare e a creare contenuti sempre più interessanti alla prossima puntata ok ricordati vendere non è solo proporre un prodotto ma creare emozioni io e gordon ti aspettiamo qui a presto